ah cazzo non ha filmato eccoci qui il signor Cannizzaro è pronto, eccolo qui dobbiamo ripetere la scena perché non abbiamo filmato siamo su telecinghiale ecco qui il signor Cannizzaro che si prepara con la sua grande professionalità possiamo partire l'ultimo apprezzamento al signor Cannizzaro l'ultimo apprezzamento al titolare dell'azienda eccolo qua, Domenico Le Rose in tutto il suo splendore possiamo andare, splendore non direi date le mani con quale veicolo partiamo signor Cannizzaro? signor Cannizzaro tra poco filmeremo la macchina aziendale andiamo a filmare i fondi della macchina aziendale avremo un'inquadratura eccolo qua eccolo qua vado a ritornare una cassetta sì sì io faccio un primo piano ai fondi notate i dettagli di questo veicolo dalle grandi capacità ovviamente io mi siederò dall'altro lato onde rischiare di finire come le macchine degli anderati facciamo anche una panoramica degli interni di questa vettura devo dire grande professionalità di questo fiorino ecco qua adesso una panoramica d'insieme dell'azienda Le Rose eccoci qua il suo Cannizzaro è come sempre super richiesto impegnato al telefono sì 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 e va bene sentite notate la grande professionalità del signor Cannizzaro ecco qua dopo l'imbuttitura per la prestitura da viaggio partenza partenza siamo pronti sentite notate sentite notate sentite notate sentite notate sentite notate sentite notate sentite notate